buon pomeriggio amiche come state bene il tempo è sempre caldo io mi voglio voglio presentare la roba autunnale perché sta andando perché ovviamente qui ormai con le spedizioni vendiamo in tutta italia in tutta europa però fa caldo io oggi che mi sono messa questo completo fa caldo sto sudando bene scusate la mia voce ma un po non lo so perché stamattina mi sono alzata con questa voce un po brutta va bene l'importante è capirsi allora come state tutte quante bene sto perdendo qualche secondo di tempo affinché tutte poi vi collegate così quando dirò la promozione di oggi siete tutte collegate va bene allora intanto cominciamo col mio outfit che oggi è soltanto questo nel senso che non ci sono alternative di colori ma è un completo ovviamente completo perché l'ho fatto io ma in realtà si vende gonna da sola e maglia da sola questa maglia ovviamente è quella che si mettono le spalle fuori ma che io non riesco a tenere perché mi muovo in continuazione quindi si alza però si può portare tranquillamente così mi dicevano c'è un segreto mettendo un po di scotch biadesi un po di bioadesivo si mantiene così altrimenti sale su come me però una maglia molto comoda che veste una 46 abbondante e la gonna pure questa è una bella 46 perché all'elastico in vita e quindi è molto gestibile i prezzi non me li ricordo non ho imparato un attimo che ve li dico penso la maglia 24 e 90 sì maglia 24 e 90 e penso il gonnellone 29 90 ah sì perché comunque l'abbiamo messo nel carrello in quanto ho dato un'alternativa di maglia da poter abbinare quindi gonnellone 29 a 90 io ho abbinato il rosa perché come vedete nel gonnellone ci sono molti colori quello che più prevaleva secondo me era il rosa e quindi ho abbinato il rosa però si può abbinare il vinaccio questo bel verde verde petrolio questo bell'azzurro che mi piace tanto non sono riuscita a trovare una maglia questo azzurro perché sennò avrei messo l'azzurro oppure se notate c'è anche una bella striatura coccio e quindi cosa possiamo abbinare se non il coccio eccolo qui che da questa estate è diventato il mio colore preferito pure no scherzo perché mi piace dire coccio e quindi è bello così allora ovviamente poi un accessorio in questo caso la collana che richiama un po uno dei colori della gonna e quindi andiamo un po a riprendere le tonalità in effetti io ho richiamato con il rosa mentre quella che indosso ho richiamato col celeste perché questo colore azzurro lo dovevo più richiamare infatti ci chiede angela la maglia solo rosa la maglia solo rosa sì ovviamente uguale alla ma la camicia coccio c'è anche rosa quindi in alternativa a questa maglia se uno non volesse mettere questa maglia barca può tranquillamente mettere una camicia come quella coccio il prezzo non cambia neanche la vestibilità perché comunque ha una vestibilità di un massimo di una 46 bene allora siamo abbastanza per poter dire la promozione bene 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 allora la promozione di oggi è intanto continuiamo quella oggi sono due le promozioni intanto continuiamo quella della scorsa settimana quindi che per chi spende un minimo di 100 euro di fa un 100 euro di spesa la spedizione è gratuita ovviamente le promozioni io mi ripeto sono sempre riferite a chi acquista online quindi a chi dobbiamo poi effettuare spedizioni la seconda promozione è legata a un nuovo inserimento una new entry degli accessori di questa settimana e di che cosa sto parlando ora venite con me che vi faccio vedere quali sono i nuovi arrivi di oggi eccole qua gli accessori che mi avete tanto chiesto le borse vedete che belle borsa carinissima comodissima con la cerniera dietro io sono anche colore prendermela perché sicuramente me la prenderò perché ho portato così tanti colori quindi il bordeaux poi c'è se vediamo qui sulle mensole c'è il verdone il verdone che molto bello poi c'è questo celeste carta da zucchero che noi abbiamo abbinato poi il full up poi c'è il nero classico il bordeaux che ho io poi c'è questo giallo senape o il color cuoio che vediamo sotto ovviamente i modelli sono identici cambia solo il colore quindi prezzo 29,90 e la promozione è proprio sulle borse nel senso che chi acquista poi una borsa in omaggio c'è un portamonete un portadocumenti che abbiamo dimenticato lì sul tavolo ora maria mi segue così ve le faccio vi faccio vedere vedete come sono carini che alla fine possono diventare anche quando si va a fare una spesa veloce la mattina che non vogliamo portare tutta la borsa possiamo mettere qui il documento i soldi magari se abbiamo un telefonino piccolo ci mettiamo anche un telefonino e andiamo a fare spesa quindi uno di questi ovviamente colori a scelta nostra in omaggio per chi acquista una borsa ovviamente le due promozioni possono incrociarsi nel senso che se una amica spende più di 100 euro intanto la promozione gratuita però se nei 100 euro ad esempio acquista una borsa c'è anche in omaggio questo borsellino qui va bene quindi sono due promozioni questa settimana allora questa promozione non è valida in negozio io lo faccio sempre per andare incontro alle spese di spedizioni io lo dico sempre anche se molti mi dicono ma noi veniamo da fuori la benzina ho capito tutto però a volte io faccio delle scelte devo fare delle scelte dei calcoli delle e quindi ci sono delle promozioni che io farò in negozio degli sconti che io farò in negozio perché anche quando uno poi viene ad acquistare in negozio e magari spende più di 100 euro ha uno sconto arrotondiamo cosa che invece per le spedizioni non succede le spedizioni sono quelle i prezzi sono quelli e in più alle ai prezzi ci sono le spese di spedizione quindi per andare incontro a queste amiche io poi faccio questi piccoli regalini ma che sono veramente piccolini va bene le scarpe stanno tutte 29 90 i nuovi arrivi quindi sia quelle con i tacchi che quelle ci sono queste nuove che sono arrivate ieri queste sneakers che sono veramente belle vedete che belle vuoi venire di qua vieni di qua maria si la vediamo bene è proprio bella bella e comoda bellissima sempre 29 90 allora adesso possiamo cominciare ok allora iniziamo con questo abito tutto abbottonato davanti in cotone bellissimo ha una vestibilità una 48 50 la possiamo lo possiamo mettere così libero oppure metterci su questo bel cinturo cinturone io ovviamente pasticciona ecco qua lo volevo far vedere diciamo al cinto con il cinturone ha un altro bel effetto magari così un po più sportivo col cinturone lo rendiamo un pochino più elegante ovviamente l'accessorio io ho scelto il dorato però in realtà possiamo mettere qualunque cosa anche una collana chiara sul beige ci sta bene comunque il prezzo è se lo sapessi 44 90 vestibilità abbiamo detto massimo 48 poi c'è questo qui un abitino in felpa sportivo può essere messo con la sneakers può essere messo anche con una zeppa un tacco dipende l'occasione dipende dove dobbiamo andare anche questo ha una vestibilità però un po più piccola quindi massimo 48 anche questo 44 e 90 allora ci chiedono tantissime il prezzo delle collane sì allora il prezzo delle collane è 14,90 queste corte qui anche questa qui che indosso io poi c'è Lucia che dice spedizione in Germania la fate? sì che la facciamo ovviamente contattaci su whatsapp dove noi ti diremo esattamente quanto costa e le modalità di pagamento e quant'altro questo è un altro tipo di gonnellone questo è uguale un po' a quelli che ho presentato la scorsa settimana quindi con una vestibilità più ampia rispetto a quello che indosso io quindi questa è una vestibilità che arriva anche a una triple XL quindi una 54 56 ci sta benissimo dove abbiamo abbinato questa camicia nera ovviamente la camicia non è una 56 questa camicia è un massimo una 48 che però ovviamente essendo nera si può abbinare tranquillamente qualunque maglia nera anche nelle taglie più grandi quindi io qui ho abbinato il nero riprendendo con l'accessorio un po' la gonna oppure possiamo abbinare il col il color coccio riprendendo un po' col nero l'accessorio gonna sempre 34 e 90 la camicia 24 e 90 benissimo allora ricordiamo la vestibilità della gonna vestibilità della gonna che ha i tasconi anche questa ve lo ricordo che è come quella che ho indossato io la volta scorsa fino a una 56 anche di più forse in tantissime ci chiedono della maglia che indostri qual è la vestibilità la vestibilità secondo me è anche una 48 forse perché è abbastanza ampia insomma 46 sicuro 48 da provare questo è un altro colore in alternativa alla fantasia di questo gonnellone che veste sempre molto grande quindi andiamo anche oltre la 56 dove abbiamo abbinato questa camicia questa camicia invece veste massimo 46 48 non di più gonnellone sempre 34 e 90 la camicia 24 e 90 bellissimo completo questo con dei bei colori poi poi color coccio anzi color mu mi hanno detto che si chiama questo questo è sempre identico come gonnellone a quello a fantasia quello sull'azzurro dove qui invece ci possiamo divertire con delle maglie vedete che belle queste corte c'è sia in questo color petroglio che riprende sempre il colore della gonna o nel bordeaux poi c'è il verdone sono tutti colori abbinabili a questa gonna ecco perché li sto facendo vedere sotto questa gonna anzi sopra questa gonna e questo nero bellissimo forse forse anche questa può andar bene vedete questa com'è bella questa ha una vestibilità anche più grande questa veste anche di più di una 48 e l'abbiamo sia in questo colore che in quest'altro colore sul bianco vedete com'è bella ampia bellissima qui ovviamente avendo questo bel fiocco possiamo anche non mettere la collana io la metto perché è completa per me completa sempre l'outfit però possiamo per chi non ama molto le collane tranquillamente qui può essere evitata poi volevo presentarvi anche queste a pois stessa vestibilità di quelle che ho appena presentato però nel pois che è un classico bianco e nero oppure questo coccio e panna anche queste 24 e 90 se non sbaglio o 24 o 29 29 e 90 non è che ci si può sbagliare ecco le mie maglie o 24 o 29 eccoli qua i jeans a zampa che sono tornati per chi mi ha sempre chiesto in tutta l'estate purtroppo non ho avuto i jeans a zampa perché sono forse un modello un po' più invernale un po' più autunnale perché mi arrivano sempre in autunno quindi jeans a zampa arrivato dalla 42 alla 54 dove ovviamente io poi ho preso adesso una carellata di maglie di camicie sul jeans sappiamo che va un po' tutto anche queste maglie semplici ok ah Maria ci chiedono tantissime come si fa per acquistare si ora lo spieghiamo volevo dire a Maria che mi hanno mi ha detto una mia cliente che muovi spesso troppo il telefono e quindi le immagini non vengono messe a fuoco bene quindi cerchiamo di tenerle è vero che io mi muovo in continuazione ma tu non devi seguirmi per forza quindi mi muovo io allora come si fa per acquistare si va intanto su whatsapp whatsapp c'è un tastino su nella pagina dove c'è scritto proprio whatsapp se si spinge quello si va direttamente su whatsapp oppure ci sono i numeri sopra scritti dove possiamo prenderli e andare su whatsapp scegliere uno dei due e andare su ovviamente uno considerate sempre un numero mai scrivere su entrambi anche se non vi rispondiamo su uno non attaccate poi sull'altro perché altrimenti per noi sarebbero due ordini e una volta che ci scrivete su whatsapp potete mandare delle foto della diretta che vi sono piaciute oppure chiederci qualunque cosa e noi vi mostreremo e lì poi le mie ragazze vi diranno come fare per acquistare ecco come pagare quali sono i tempi di spedizione o quali sono le modalità di pagamento va bene ci chiedono il prezzo dei jeans prezzo dei jeans 39,90 come sempre come l'anno scorso questa è un'altra bella maglia che possiamo abbinare sul jeans semplice in maglina di cotone bella fresca c'è anche questo verde menta o salvia come lo volete chiamare maglie semplici quando mi chiedete non c'è una maglia normale? ecco questa è una maglia normale a volte vorrei capire cosa sono queste maglie normali però a volte le signore sono carine quando mi dicono una maglia normale quando io magari li presento una maglia molto elegante una maglia no no ma io voglio una maglia normale la maglia normale loro vogliono dire una maglia semplice come questa bene e questa è una tipologia ovviamente su tutte queste maglie che io ho presentato sia quel jeans a zampa oppure è arrivato anche questo jeans semplicissimo con solo questo particolare sulla tasca sempre questo dalla 44 alla 56 in alternativa dopo ve lo faccio vedere un jeans che veste anche più grande però ve lo faccio vedere dopo ecco qui il taillère per chi dice il taillère ho completo giacca e vestito io lo chiamo completo giacca e vestito perché il taillère secondo me è altra cosa però allora ve lo volevo sbottonare perché vi voglio far vedere com'è sotto il vestito smanicato un bel tubino sfiancato con il suo giacchino sopra questo dalla L alla doppia XL 89,90 il completo poi mi sono arrivati questi bei vestiti taglia unica ma molto grande quindi veste anche un conformato che costano che costano 39,90 e lo possiamo trovare nel blu nel nero con il rosso oppure con il nero e questo sfondo bianco e petrolio mi chiedono dell'abito mostrato in completo sì è possibile prendere solo il tubino no quello è un completo si vende così completo allora adesso invece vi presento questo che ve l'ho già presentato però siccome mi piace molto bello ve lo voglio ripresentare pantaloni a taglia dalla M alla XL è rimasto perché le taglie più grandi sono finite dove abbiamo abbinato questa maglia a taglia unica che veste anche fino a una doppia quindi una L o una XL andrebbe bella comoda maglia 24,90 pantalone 29,90 su cui possiamo abbinare tranquillamente un bel giubbotto di pelle anzi in ecopelle come mi chiedeva qualcuna signora ma lei deve specificare non ha detto se è pelle o ecopelle intanto io l'ho sempre specificato e lo rispecifico ecopelle ma poi il prezzo lo dice costa 59,90 un giubbino in pelle non costerebbe mai 59,90 ma io non lo venderei mai per principio allora in ecopelle 59,90 e va dalla L alla 5 XL quindi bello ampio stesso giubbino in ecopelle modello leggermente diverso taglie conformate quindi dalla dalla 47 alla 57 bello ampio così affinché anche le taglie un po' più forti possono essere belle alla moda con questo giubbino in pelle benissimo completo un po' elegantino vedete che bella questa maglia mi è piaciuta subito bellissima maglia taglie dalla L alla tripla XL raffinata elegante con il pantalone capri sotto che va dalla 44 alla 60 ah a zampa abbiamo messo si a zampa scusate quindi a zampa invece no zampa dalla 44 alla 54 però tranquillamente si può mettere anche il pantalone capri che lo vediamo adesso eccolo qua questa invece è una camicia conformata la troviamo solo nella 55 e nella 57 e anche nel rosa che è terminata ma arriva in questi giorni quindi anche disponibile rosa pantalone invece capri dalla 44 alla 60 non vi ho detto i prezzi ve li dico subito quindi la maglia 49,90 questa bianca elegante e 49,90 questa camicia conformata di conformato c'è anche questa maglia anche questa dalla 49 alla 57 così come questa che io ho abbinato tranquillamente sul jeans che vi dicevo prima che è un jeans che va dalla 48 alla 62 benissimo quindi pantalone dalla 48 alla 62 maglie ovviamente io poi li ho messe sulle maglie conformate quindi non è un jeans conformato però veste fino alla 62 quindi diciamo che una 62 può vestir bene anche una 55 conformato va bene vedete che bello effetto ah però vi devo far vedere una cosa su questo pantalone su questo jeans e questa maglia anzi su queste maglie le vedete bene che si sono incagliate le collande le vedete bene i colori e vedete un po' che capospalla ci ho abbinato eccolo qua perché il giacchino il giubbino in ecopelle nero che vi ho fatto vedere conformato è anche arrivato in questo colore bordo bellissimo una bellissima alternativa al nero che abbinato a maglie non dico dello stesso colore ma che riprendono ma anche no anche su un altro tipo di maglie è un colore che ormai va bene su tutto allora ci chiedo se il pantalone capri è disponibile in altri colori oltre che il nero allora sì il capri è disponibile nel blu e nel coccio ma nel coccio poche taglie perché questa volta non l'ho portato in quanto in azienda era terminato quindi nel blu e nel nero dalla 44 alla 60 poi c'è Romina che chiede i jeans sono a vita alta? i jeans sono a vita alta a vita normale dico io perché io non amo la vita bassa e quindi io tutto ciò che prendo è a vita normale vita alta comodi insomma sono elasticizzati tutti quanti hanno la gamba non molto aderente una bella gamba cioè una bella vestibilità bella comoda vi voglio ripetere la promozione questa volta sono due promozioni quindi la prima è che per un minimo di acquisto di 100 euro di spesa la spedizione diventa gratuita poi facciamo rivedere le borse Maria siccome questa settimana abbiamo portato le borse sono arrivate le borse ecco ve le faccio vedere qua in tanti colori questo è uno dei tanti colori quindi per chi acquista poi una borsa in omaggio una bella pochettina che abbiamo lasciato di nuovo sul tavolo quindi adesso vi riporterò di nuovo sul tavolo per farvi vedere ora Maria vi fa vedere una carellata di tutti i colori delle borse disponibili a partire dal bordeaux che abbiamo fatto vedere poi c'è il verde poi c'è il carta da zucchero Mariana avvicinami un borsellino bra il nero classico poi il senape e il cuoio eccole qui le pochettine in omaggio Mariana me le ha portate non è che abbiamo fatto la magia perché stavano sul tavolo quindi per ogni borsa acquistata in omaggio questa bella pochette quindi le due promozioni possono incrociarsi perché per chi spende 100 euro e nella 100 euro c'è una borsa in omaggio anche la pochettina quindi avrebbe due omaggi la spedizione gratuita più la pochettina va bene questa settimana è andata così magari la prossima settimana ce ne sarà una sola di promozione come mi capita come mi viene come mi alzo la mattina a volte ci penso dico ma oggi facciamo questo domani facciamo quest'altro così che si vive così alla giornata va bene tantissime ci stanno lasciando i centimetri del loro girovita allora allora sì perché questo magari non l'ho detto prima io lo dico ogni diretta non facciamo gli ordini qui in diretta perché noi i commenti che voi lasciate nella diretta sono gli ultimi che andremo a rispondere dopo perché quando chiudiamo la diretta ci preoccupiamo di rispondere su whatsapp perché sono tantissimi i messaggi che ci arrivano quindi è meglio che anziché scrivere qui nella diretta scriveteci su whatsapp attendete che finisce la diretta magari mi seguite ci guardiamo e vedete le cose che io vi mostro appena finisce la diretta potete scriverci su whatsapp noi non andiamo via noi siamo qui che vi rispondiamo a tutti la diretta tanto la potete rivedere dopo quindi quando termina adesso noi la pubblichiamo e la ritroverete sempre anche domani quando avete voglia di vederla ma scriveteci su whatsapp perché altrimenti questi commenti io personalmente andrò molto dopo a rispondere quindi magari il capo che voi avete scelto in diretta può essere che sia terminato perché noi diamo precedenza alle chat di whatsapp che sono molte di più sono tante e quindi poi facciamo fatica a rispondere a tutte noi vogliamo rispondere sempre a tutte va bene quindi chi adesso si ha lasciato i dati i girovita prendeteli e portateli su whatsapp va bene allora c'è Antonietta che chiede buonasera ma solo online la vendita? no non è solo online io do sempre per scontato io sono qui in negozio quindi potete tranquillamente venirmi a trovare in negozio la vendita online ormai ha presso piede quindi per chi mi vede da lontano le dirette sono fatte anche per questo però io sono tranquillamente qui in negozio quindi le mie clienti vengono sempre a trovarmi e potete venire a trovarmi anche voi dove ci troviamo? ci troviamo a Molfetta in provincia di Bari in via tenente Fiorino 51 dalla 16 bis è raggiungibilissimo usciamo a Molfetta sud una strada dritta dopo quattro semafori mi trovate sulla destra quindi facilissimo più facile di così Anna ricordiamo il prezzo delle borse il prezzo delle borse è 29,90 scegliete il colore che più vi piace e magari la prossima settimana ne farò vedere altre o magari riproporrò le stesse nei colori che sono andati di più va bene allora io ho finito vi do appuntamento a venerdì nella prossima diretta dove io vi presenterò altra roba spero che vi sia piaciuta vi raccomando fate il screenshot fate le foto di ciò che vi è piaciuto così è più facile poi capire di cosa stiamo parlando nelle chat va bene vi do un bacione a tutte vi aspetto venerdì allo stesso orario ciao a tutte